Settima lezione del corso di Scienze Naturale per Dicei, modulo Geografia Astronomica. In questa lezione parlerò del sistema Terra-Luna, quindi vedremo la differenza tra la Terra e la Luna, quindi principalmente prima fisica e chimica, vedremo la differenza nelle dimensioni e nel rapporto tra questi due oggetti, e poi parleremo di come si è formata la Luna, quindi la teoria del megaimpatto. Ancora vedremo quali sono i suoi effetti sulla Terra e quali sono i fenomeni che si possono osservare, quindi come le fasi lunari, le maree e le eglissi. Cominciamo. La Luna è il satellite naturale della Terra, però il suo rapporto con la Terra è molto speciale rispetto ai satelliti degli altri pianeti del Sistema Solare. Infatti il rapporto tra la Terra e la Luna è molto grande. La Luna è un quarto della Terra, però pesa 81 volte di meno. Questo perché, come vedremo nella sua formazione, è costituita principalmente da silicati, mentre la Terra ha un gigantesco nucleo di ferro molto denso al suo centro, che le conferisce una grande massa. Il diametro della Luna è di poco meno di 3.500 km, per dare un'idea grande quanto l'Australia, mentre il diametro della Terra è di 12.742 km. Infatti, se vediamo la teoria di formazione della Luna, vedremo che la più accreditata degli scienziati è quella del megaimpatto, ovvero quella che prevede un gigantesco impatto tra la Terra e un pianeta grande quanto Marte, chiamato Theia, all'inizio della storia del Sistema Solare. Secondo questa teoria, i detriti del mantello e della crosta lanciati in orbita da questo megaimpatto hanno poi dato origine, grazie alla forza gravità, a questo oggetto unico che poi è diventata la nostra Luna. Qui c'è una simulazione che ci fa vedere come è avvenuto. Praticamente, questo pianeta con il suo nucleo di ferro ha impattato la Terra e il suo nucleo di ferro è andato a fondo, qui vedete il nucleo di ferro all'interno, che si va a fondere con il nucleo di ferro della Terra, mentre quello che è stato proiettato in orbita sono i materiali più leggeri della crosta e del mantello, che quindi spiegano la grande leggerezza della Luna, la quale, come detto prima, è solo 4 volte più piccola della Terra, ma ben 81 volte più leggera. Ancora, vediamo altre simulazioni di come potrebbe essere stato questo impatto. Al computer gli scienziati hanno simulato tantissime volte questo impatto e hanno visto che il modo migliore per riprodurre un satellite simile alla nostra Luna è stato quello di un impatto di striscio, non in pieno. Questo perché l'impatto di striscio ha sollevato molto più materiale in orbita e addirittura c'è stato un secondo impatto in cui praticamente il corpo impattante è rimbalzato, ha girato per mezzo mondo e poi è ricaduto dalla parte opposta, lanciando ancora più materia in orbita. In quest'altra simulazione si vede benissimo l'onda d'urto che si propaga da tutto quanto il pianeta, quindi il pianeta si comporta come un gigantesco fluido, e poi il materiale impattante che ricade. Qui vedete un grosso gocciolone del pianeta che è rimasto in orbita ed è ritornato giù, quindi c'è stato questo doppio impatto. Questo doppio impatto ha lanciato in orbita il materiale necessario per formare quello che era la nostra Luna. Ovviamente non tutto il materiale si è trasformato nella nostra Luna, una parte come vedete qua è ricaduta sul pianeta, una parte si è dispersa per il sistema solare, ma ciò che è rimasto ha dato origine al satellite. Qui vediamo un altro impatto, sempre un'altra angolazione, qui siete sempre il materiale lanciato nello spazio, il doppio impatto e poi ovviamente il materiale che finisce in orbita e nel tempo darà origine al satellite. La cosa interessante è vedere che l'attuale inclinazione terrestre di 23 gradi, un'inclinazione che dà origine alle stagioni, è dovuto probabilmente a questo impatto, ovvero l'impatto è stato così forte da inclinare la Terra con un'asse di 23 gradi che vediamo oggi. Quindi la stessa inclinazione dell'asse terrestre è una prova di questo mega impatto, però in realtà la prova verpropria sta nella composizione chimica della Luna che corrisponde esattamente alla concentrazione isotopica della Terra, quindi ovviamente la Luna è costituita da parte del materiale che costruiva la Terra, in particolare crosta e mantello e poi come vedete ha dato origine a un oggetto unico. Quando si è formata, sempre con l'attuale del mega impatto, la Luna era molto più vicina alla Terra perché i detriti che sono stati lanciati nello spazio hanno formato un anello intorno al pianeta. Quest'anello si è condensato oltre il limite di rock, ovvero quel limite oltre il quale la gravità terrestre avrebbe impedito l'aggregazione di un oggetto unico. Per fortuna questi detriti si sono condensati nella Luna perché se fossero rimasti sotto forma di anello sarebbero stati imprigionati in un'orbita a decadimento e l'anello sarebbe ricaduto poi presto tutto quanto sulla Terra. Invece il materiale, eiettato dall'impatto, si è messo in orbita abbastanza lontano dalla Terra affinché la gravità terrestre non riuscisse a impedire l'aggregazione di un oggetto unico. Ma la Luna si è formata molto più vicino rispetto ad oggi, a una distanza appena superiore ai 22.000 km. Quindi questo doveva essere l'antico paesaggio che si poteva vedere sulla Terra in quell'epoca. Ovviamente nessuno poteva essere lì a quel tempo per poter vedere la Luna così vicino perché la Terra ancora non aveva la vita o se ce l'aveva era relegata in poche batteri in alcuni pozzanghele. Però in realtà ovviamente nessuno a quell'epoca poteva osservare un Luna così vicino ma ci sono molte prove che lo fosse. Addirittura la stessa vicinanza di questa Luna è stata fondamentale per l'evoluzione della vita perché creava delle maree così enormi che gli oceani risalivano i continenti per chilometri ogni giorno e questo ha contribuito a mescolare i minerali vulcanici e non che poi hanno creato quell'ambiente chimico ideale negli oceani che poi ha dato origine alla vita. Lo stesso prodo primordiale quindi è stato favorito da questi mega maree. Se oggi la Luna fosse così vicina ci apparirebbe così. Quindi per fortuna nel tempo la Luna si è allontanata permettendoci di poter vivere sulla Terra senza aver paura delle maree tutti i giorni. Però perché la Luna oggi è più lontana? La Luna è più lontana perché il sistema Terra e Luna non è in equilibrio. Alla fine di questa lezione faremo le maree e spiegheremo ancora bene questo concetto però sappiate che sia la Luna che la Terra si creano delle mutue maree. Ovviamente l'oceano si deforma molto più facilmente della crosta quando la Luna genera questa marea però anche la Luna subisce una deformazione a causa della gravità terrestre. Queste deformazioni superficiali creano delle zone di discontinuità gravitazionale per cui praticamente Terra e Luna non sono precisamente in equilibrio e la Luna viene spinta leggermente più lontano ogni volta che compie un giro. L'entità di questo allontanamento è di circa 3,8 cm all'anno però in tutti questi uniti anni questa mutua interazione tra la Terra e la Luna ha fatto sì che la Luna sincronizzasse la sua rotazione con la sua rivoluzione intorno alla Terra per questo motivo oggi la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra mentre la Luna al contrario non è riuscita a fermare la rotazione terrestre è riuscita a rallentarla quando si è formata la Terra ruotava molto più velocemente oggi ruota in 24 ore tra un miliardo di anni ruoterà in 30 ore però non è riuscito a rallentarla questo perché la Terra è molto più pesante della Luna oggi la Luna si trova a 384.000 km della Terra ma quando si è formata era poco più distante di 22.000 km quindi da quando si è formata la sua distanza della Terra è aumentata di ben 17 volte vediamo quello che sappiamo oggi della Luna infatti la Luna è stato il primo oggetto celeste ovviamente dopo il Sole ad essere adorato e osservato dagli esseri umani però è stato raggiunto fisicamente per la prima volta da poco più di 50 anni infatti il primo allunaggio di un equipaggio umano sulla Luna avvenne il 20 luglio del 1969 e furono ovviamente gli americani che vi atterrarono e raccolsero rocce, fecero fotografie, fecero misurazioni, esperimenti fisici e chimici e così via però vediamo quello che vediamo oggi della Terra questo è il disco lunare, cioè la faccia che noi vediamo dalla Terra ci sono zone scure e zone chiare le zone scure sono antiche colate di magma che hanno riempito le zone più depresse vengono chiamate mari non perché c'è l'acqua ma perché sono pianeggianti e depresse mentre le altre zone chiamate continenti sono zone più rilevate e più accidentate vediamo gli emetti principali abbiamo il mare Ibrium o mare delle piogge si chiama mare ma non c'è acqua è una grande pianura vulcanica pianeggiante chiamato mare poi abbiamo il mare della tranquillità anche questo è un grande bacino un'ex colata di lava che ha riempito questa depressione poi abbiamo il cratere di Keplero il cratere di Copernico e l'altopiano lunare come vedete gli altipiani sono costituiti da materiale più chiaro e poi abbiamo il cratere taico è un cratere enorme che ha praticamente spaccato la luna infatti qui si vedono queste diramazioni che a raggera si muore tutta la luna infatti questo cratere è stato talmente forte che ha creato delle fratture che attraversano la crosta lunare per migliaia di chilometri andiamo avanti e vediamo come si evolve la luna nel tempo infatti oggi la luna è piena di crateri perché non c'è un'atmosfera a bruciare i meteoriti più piccoli che ci cadono sopra e nello stesso tempo non c'è la pioggia non c'è il vento che possono cancellare questi crateri come invece avviene sulla terra come avviene un impatto? un meteorite colpisce la superficie e crea un'onda d'urto questo'onda d'urto si propaga nella superficie e scava una cavità l'onda d'urto subisce un'onda di rinculo uguale e contraria che torna praticamente indietro e crea questo montarozzo quindi tutti i crateri hanno questa forma W perché c'è sempre un montarozzo al centro creato dal rinculo dell'onda d'urto dell'impatto iniziale vediamo adesso ancora meglio la superficie lunare perché infatti ho detto che noi vediamo sempre questa superficie della terra ma questo è l'altro lato è stato fotografato per la prima volta negli anni 60 quando gli americani si stavano preparando ad allunare lanciarono queste sonde che orbitavano intorno alla luna quindi ci passavano dietro e per la prima volta l'umanità ha visto la faccia nascosta della luna vediamo cosa si pensa ci sia all'interno del nostro satellite il satellite è molto leggero è solamente 4 volte più picco della terra va ben 81 volte più leggero questo vuol dire che è fatto per lo più di roccia è che se dovesse avere un nucleo ce l'ha molto piccolo e ovviamente questo nucleo probabilmente sarà sicuramente tutto solito però nulla esclude che ci sia una piccola componente ancora fluida vediamo in questa slide alcuni satelliti principali del sistema solare messi a confronto con la terra e la luna vedete che giove ha ben 4 lune grandi più della nostra luna addirittura alcune sono più grandi del pianeta mercurio e a confronto anche titano è più grande della nostra luna qui abbiamo le lune di urano di nettuno e di plutone con caronte ora parliamo dei moti della luna la luna segue la terra in orbita intorno al sole e ovviamente il suo modo complessivo è una combinazione del moto di rivoluzione intorno alla terra con quello di rivoluzione intorno al sole e il suo moto è praticamente un'onda è ondulatorio e infatti vedete che gira intorno al sole seguendo la terra lungo la sua stessa orbita da questo infatti abbiamo il fenomeno delle fasi lunari ovvero la luna orbitando intorno alla terra mostra sempre la stessa faccia alla terra ma mostra la sua illuminazione in modo diverso e infatti vediamo che nell'arco di un mese la luna passa tutte le fasi da quella crescente alla fase piena alla fase calante alla fase nuova e quindi possiamo vedere tutte le fasi lunari in questa immagine la crescente il primo quarto la crescente gibbosa la fase di luna piena la calante gibbosa l'ultimo quarto e poi l'ultima fase finale fino alla luna nuova che è praticamente invisibile perché la luna mostra la faccia in ombra verso la terra vediamo poi quando è che possiamo vedere la superluna infatti la luna gira intorno alla terra come tutte le orbite anche quella lunare è ellittica il punto più vicino si chiama perigeo il punto più lontano si chiama apogeo al perigeo può raggiungere una distanza di 363.300 km ma a volte può essere anche minore e al punto di apogeo raggiunge una distanza di 400.500 km la distanza media della luna dalla terra è di 384.000 km quando la luna piena è in perigeo ovviamente dalla terra appare più grande di quando invece è in apogeo vediamo che la differenza che c'è tra una luna piena in perigeo piuttosto che una in apogeo è circa del 10% ovvero la luna appare del 10% a volte anche di più più grande se si trova in fase piena durante il perigeo piuttosto che in apogeo ancora vediamo che dobbiamo distinguere tra il mese sinodico e il mese siderale infatti vi ho detto che la luna gira intorno alla terra e nello stesso tempo gira anche intorno al sole quindi in modo complessivo è un po' più complesso consideriamo l'orbita della luna intorno alla terra la luna gira intorno alla terra nel frattempo si sposta insieme alla terra intorno al sole il suo giro completo avviene in circa 27 giorni e mezzo però visto che nel frattempo si è spostato intorno al sole per tornare esattamente nella stessa posizione rispetto al sole con la terra devono passare ancora 2,2 giorni quindi in questa differenza possiamo distinguere il mese sinodico e il mese siderale il mese sinodico è quello basato in base al sole quindi la luna ritorna nella stessa posizione rispetto al sole e alla terra dopo circa 29 giorni e mezzo mentre se consideriamo solamente il movimento terra-luna la luna completa un giro intorno alla terra esattamente in 27 giorni e un terzo è il mese siderale parliamo invece adesso delle crisi la luna può proiettare un'ombra sulla terra quando si frappone tra la terra e il sole e a sua volta la terra può proiettare un'ombra sulla luna se questa si posiziona a retrostante questo è uno dei fenomeni astronomici più spettacolari che si può vedere dalla terra anche perché la luna essendo 400 volte più piccola del sole è anche 400 volte più lontana quindi quando l'allineamento è perfetto si riesce ad avere una completa copertura del disco solare tanto da permetterci di vedere la corona solare che è la sua atmosfera la corona solare è circa un milione di volte meno luminosa del sole quindi solamente oscurando il disco solare è possibile vedere dalla terra la corona solare possiamo qui vedere un'immagine che fa vedere l'ombra della luna che passa sulla terra vedete che la luna essendo più piccola della terra ovviamente proietta un'ombra che non copre tutta la terra ma l'eclisse solare copre solamente una porzione molto grande della terra qui vediamo un'immagine dello spazio che fa vedere l'ombra lunare sulla terra proprio si vede benissimo la luna che copre il sole e la sua ombra proiettata sulla terra però non sempre l'eclisse completa se l'allineamento è corretto l'eclisse completa e abbiamo una zona d'ombra completamente buia come nell'immagine se invece l'allineamento non è completo si può avere un'eclisse parziale ovvero la luna non copre tutto il disco solare ma solamente una parte e quindi abbiamo anche l'eclisse parziale se invece la luna si trova in apogeo durante il suo allineamento con il sole non riesce a coprire completamente il disco solare e abbiamo un'eclisse di tipo anulare vediamo adesso l'eclisse di luna quando la luna ha nascondesi dentro la terra stavolta abbiamo un'ombra molto più grande perché la terra è più grande della luna che copre l'intero satellite in più la terra ha anche un'atmosfera l'atmosfera assorbe molte lunghezze d'onda e solamente il colore rosso riesce ad attraversare lo strato atmosferico sul bordo del pianeta quindi quando la luna viene coperta dalla terra prima diventa rossa e poi diventa completamente oscura qui vediamo la luce solare che attraversa l'atmosfera terrestre e tinge la luna di rosso e poi abbiamo il vero e proprio profilo terrestre che copre completamente l'intero satellite i primi astronomi ipotizzarono la sfericità della forma terrestre proprio dall'ombra che la terra proiettava sulla luna la curvatura di quest'ombra suggerisce che la terra è rotonda andiamo avanti e vediamo perché le eclissi non avvengono tutti i mesi ovvero la luna ci mette circa un mese a fare un giro entorno alla terra teoricamente dovrebbero esserci tutti i mesi le eclissi in realtà non è così perché l'orbita lunare è inclinata di 5 gradi rispetto all'eclittica ovvero al piano dell'orbita terrestre questo fa sì che solamente in due punti detti nodi la luna la terra e il sole possono essere lineati infatti i nodi sono i punti di intersezione che ci sono tra l'orbita lunare e quella terrestre e sono solamente due e abbiamo le eclissi di sole o di luna solo quando sole, terra e luna sono lineati lungo questa direttrice dei nodi qui vediamo un'immagine che ci fa vedere il piano dell'orbita terrestre confrontato con il piano dell'orbita lunare i nodi non sono sempre lineati con il sole solamente quando sole e terra e luna sono lineati con i nodi allora abbiamo le eclissi di sole o di luna un'ultima influenza importante che la luna ha sulla terra è quella delle maree la luna ha una sua forza di gravità che si fa sentire sulla superficie terrestre e ovviamente tutta la terra si deforma in base a questa forza di gravità però ovviamente l'acqua che è liquida sente molto di più questa forza e si deforma molto più facilmente e quindi la luna genera le maree che si ripetono ogni giorno in tutto il globo almeno quattro volte due alte maree e due basse maree alternate qui vediamo che la luna attrae l'acqua dalla parte in cui si trova però visto che la terra ruota per forza centrifuga si crea una contromarea uguale e contraria dalla parte opposta mentre ai lati della terra in corrispondenza di 90 gradi con la luna abbiamo due basse maree quindi visto che la terra gira in 24 ore e quindi praticamente il cono gravitazionale lunare spazza tutta la superficie terrestre ogni 24 ore ogni giorno nel mondo in tutto il mondo ci sono quattro maree alternate due alte maree e due basse maree qui vediamo alcuni esempi qui vediamo che in alcuni punti sempre in un oceano la marea può essere alta anche decine di metri ancora vediamo zone anche qui che spariscono questo sicuramente è una marea oceanica la marea è presente anche nei laghi e nei mari piccoli ovviamente più è piccolo il bacino idrico minore si sente nel Mediterraneo la marea massima è fino a un metro un metro e mezzo è nell'oceano che raggiunge la sua intensità più alta come vedete questo cambiamento avviene nell'arco dello stesso giorno la mattina qui la gente ci può andare senza problemi il pomeriggio già tutta questa zona è allagata noi che siamo in Italia non siamo abituati a maree così intense però tutti i paesi che si affacciano sugli oceani hanno queste grandi spiagge che ogni giorno vengono completamente sommersi e a volte sono anche pericolose perché a volte la risalita delle maree è molto veloce chi non è abituato a maree così forti deve fare attenzione perché ci può sempre scappare il morto andiamo avanti e vediamo quali tipi di maree ci possono essere sono due tipi abbiamo le maree sigiziali quando sole terra e luna sono allineate lungo la stessa direttrice e quindi le forze di cavità solare e lunare si sommano e poi invece abbiamo le maree di quadratura ovvero quando sole terra e luna formano un angolo di 90 gradi in questo caso le forze mareali si sottraggono sicuramente il sole è molto più grande della luna e la sua carità è molto più forte però essendo più lontana si sente di meno quindi l'entità mareale solare è circa un terzo di quella lunare questo perché come detto prima il sole è molto più lontano detto questo ho finito anche questa lezione nella prossima lezione parlerò dei moti della terra quindi parleremo del moto di rotazione terrestre che genera l'atternarsi del giorno e della notte parleremo del moto di rivoluzione della terra intorno al sole che genera le stagioni e parleremo dei moti millenari che genera le ere glaciali potete trovare questa lezione e tutto il corso di scienze naturali per licei sul mio canale youtube e sulle mie pagine facebook e instagram prof. Antonio Loiacono grazie